E' cominciata nella mattinata la ripresa degli allenamenti per l'Avelino di Piero Braia, la squadra dopo la sosta natalizia si è ritrovata sul sintetico del Partenio Lombardi, nel mirino la gara di sabato prossimo ore 17.30 contro il Teramo. Penultimo impegno del girone d'andata, girone che si chiuderà con la partita interna contro la cavese dell'ex Salvatore Campilongo. Doppia seduta per la formazione irpina che ha svolto il cinquantesimo ciclo di tamponi nasofaringeo che hanno dato esito negativo. Lavoro ridotto per Anderrico, differenziato per Alberto De Francesco, il primo dopo un periodo a dir poco sfortunato viaggio verso il ritorno in campo. Saranno da monitorare invece le condizioni dell'ex centrocampista della regina che prima della sosta ha rimediato uno stilamento al flessore della coscia destra. Nella serata è giunto in irpina anche Mario Nikolic dalla Croazia. L'Avellino avrà a disposizione una settimana di lavoro per preparare la gara contro il Teramo di Paci. Il mese di gennaio rappresenterà un vero tour de force per l'Avellino che affronterà in casa la cavese e poi la viterbese. Lontano dalle muramiche sarà sfida contro Teramo, appunto, e Turris. Il tecnico toscano potrà contare per il nuovo anno anche su oriente di Salvatore Aloy e Simone Ciancio che hanno scontato il turno di squalifica nell'ultimo match del 2020 contro la Vibonesia.